la patria, dobbiamo salvare i conti, faremo una serie di manovre ispirate a rigore, equità e crescita, rigore per diminuire la spesa, equità cioè sacrifici uguali per tutti e crescita, aiuto concreto alle imprese perché sono le imprese, i produttori che fanno la crescita, finora di questo trinomio noi abbiamo visto solo tasse, tasse e tasse.